Ciao a tutti, eccoci qua che vi voglio mostrare un altro dei miei deck preferiti. Come avrete visto dal mio canale, adoro molto gli angeli, quindi adoro questo deck che è il deck controfata. Allora abbiamo Paras, Archi Cavaliere Volante Sacro, Neoparas, Il Paladino del Cielo, Paras, Cavaliere Volante, Ecatrice, Ariadne La Guida, e poi alcune contro trappole, 7 attrezzi del bandito, Providenza Finale, Corruzione Oscura, Eva, Matera del Saggio del Cielo, Balchiere L'Angelo Potenziato, Angelo Mettitore della Saggezza, Disturbo Trappola, Legami dei Compagni, Luce del Giudizio, Artemis in Magnanimo, Minerva La Studiosa del Cielo, L'Onesto, L'Arti Signore Crista, Seraphin Sintetico, Linea Interrotta, un'altra contro la trappola, Balalla Sala dei Caduti, Rinascita di Paras, Le Eraldi della Luce Verde, Tetis la Dea della Luce, Spiritello Didi, Le Eraldo della Luce Alancione, Terraformare, per recuperare il Santuario del Cielo, Santuario del Cielo, Discesa Milicolosa, Sacrario di Paras, Caduta Finale, un'altra contro trappola, Vocatore Nova, Carte dal Cielo, Venere Splendida, Punizione Divina, Richiamo, Atena, Vertimento Solenne, Trasformazione Celestiale, Luce Guida, L'Araldo della Luce Viola, L'Araldo della Liberatore e L'Onesto e il Segna a Seraphin Sintetico.